ormai ci siamo quasi il prossimo 8 dicembre a portoferraio si svolgerà l'amichevole di calcio a 11 che si giocherà fra la nazionale elbana e il regno delle due sicilie entrambe affiliate con negli ambienti sportivi l'evento è molto atteso purtroppo marco del vecchio e andrea tiritiello per impegni di lavoro non saranno della partita nonostante la convocazione ma sia il calciatore di porto azzurro che milita nel cosenza che l'ex bomber della roma e della nazionale hanno voluto mandare un video messaggio ragazzi purtroppo l'otto dicembre non ci sarò per questa prima partita e volevo augurarvi un buon divertimento in bocca al lupo alla prossima ciao a tutti l'otto dicembre ci sarà il debutto della nazionale ilbana io sono stato convocato ma purtroppo per motivi di lavoro che mi hanno portato all'estero non potrò essere presente per questa partita però volevo fare il mio grande in bocca al lupo al mister ai ragazzi a tutti quanti per questa nuova avventura della nazionale ilbana e spero che la partita vada bene ciao a tutti e a presto